Voglio ringraziare i tanti tantissimi cittadini che mi sostengono e approvano le mie decisioni in un momento difficilissimo per Pescara, per l'Italia e per il mondo. Oggi dobbiamo essere tutti quanti uniti, tutti remare nella stessa direzione. Sono molti di più gli attestati di stima che gli insulti ricevuti per aver prorogato la chiusura delle scuole. Una decisione sollecitata dalla ASL a causa dei dati epidemiologici che mostrano un costante e preoccupante aumento di persone positive al Covid-19, anche tra i giovanissimi e dei tanti pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, replica così alle critiche e agli insulti che gli sono stati rivolti su Facebook dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia. Sono una minima parte dei cittadini, accusano devo dire anche con parole sgradevoli. Io capisco il disagio di tanti, però credo che chi sta lavorando da questa parte per risolvere i problemi di tutti e si mette sulle spalle i problemi di tutti per decidere con scienza e coscienza, cercando anche di supportare le proprie decisioni con i pareri della comunità scientifica. Credo che stia facendo il suo lavoro e debba essere sostenuto in ogni modo perché le decisioni giuste sono quelle che risolvono i problemi. Nel capoluogo adriatico e in altri comuni dell'area metropolitana tutte le scuole di ogni ordine e grado rimangono chiuse fino a Pasqua a causa dell'impennata di contagi. Masci risponde che ha agito su sollecitazione della ASL che ha chiesto espressamente di procedere in questo senso anche ai sindaci di Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo. Inoltre il primo cittadino spiega che l'obiettivo principale della sua giunta è quello di fare il bene di tutta la collettività. Ci preoccupiamo di soddisfare esigenze che sono notevolmente aumentate. Oggi noi ci occupiamo di fare i tamponi, di fare i vaccini, di organizzare la logistica, dei buoni spesa, dei pacchi alimentari. Ci preoccupiamo del controllo del territorio insieme al prefetto, al questore. Siamo impegnati a 360 gradi su delle problematiche che fino a un anno fa non esistevano neanche. E lo facciamo attraverso le associazioni di volontariato che operano con il Comune, a fianco al Comune per risolvere i problemi delle categorie più disagiate che in questo periodo, in quest'anno, in questo momento di pandemia sono aumentate enormemente. Grazie. Grazie.